E' stato presentato ieri, mercoledì 21 agosto, nel suggestivo sito della Chiesa di Santa Maria del Brignolito a Militello Rosmarino, il romanzo Non ho tempo da perdere, opera prima del magistrato Giuseppe Artino in aria, giudice civile presso il tribunale di Catania. Il romanzo è una lunga confessione in prima persona di Salvatore, che alla soglia dei 40 anni fa i conti con un rapporto sentimentale ormai agli sgoccioli e il desiderio di paternità. L'imminente compleanno è un'occasione per fare un bilancio della sua vita e tentarne il rilancio. Presentare il mio primo libro nel mio paese di origine è un evento dal mio punto di vista personale straordinario, in uno scenario incantevole, sia paesaggistico che proprio di luogo fisico, come questa chiesa che è alle nostre spalle, che è davvero stupenda. Il mio primo libro in pratica ha poco a che vedere col mio lavoro, o forse ha tanto a che vedere col mio lavoro, perché in realtà è comunque una storia che riguarda un uomo qualunque, anche se poi il protagonista dichiara la professione che fa di pubblico ministero, però in realtà il percorso soggettivo del protagonista è totalmente avulso da quella che è la sua professione. Ed è la storia di un quarantenne che si approssima al compimento proprio dei quarant'anni e che attraversa una crisi interiore in cui da uomo non sposato, senza figli, solo, si interroga sul senso della propria esistenza e soprattutto sul senso della propria storia con la propria compagna Monica. Da lì si innesca tutta una serie di riflessioni alla ricerca di un senso alla propria vita, che lo porterà poi a una soluzione finale, aperta, e ad una soluzione, che non anticipo, della storia con Monica. Il libro fondamentalmente ruota sulla domanda di senso dell'uomo moderno, sulla ricerca di un qualcosa di solido che vada al di là della fatuità della quotidianità. Lui scopre appunto quanto sia vuota la propria vita, nonostante il benessere economico, nonostante anche un rapporto sentimentale appagante, e da lì si innescano tutta una serie di approfondimenti che lo portano a vedere in maniera completamente diversa la propria vita. La cosa bella di oggi, che mi è piaciuta, al di là del mio libro in senso stretto, è stata l'enorme partecipazione per un paese piccolo come Militello, l'enorme partecipazione per un evento di questo tipo che non ce ne sono stati molti a memoria d'uomo in questo paese.